Mi state mandando un sacco di indovinelli su Insta e continuate a farlo. Mi raccomando, seguitemi, non costa nulla. E l'indovinello che mi ha mandato Alice è questo. È il figlio di tua madre e di tuo padre, ma non è tuo fratello né tua sorella. Chi è? Vediamo chi indovina.